La linea ferroviaria dell'Alberg costituisce l'asse est-ovest a ridosso della catena alpina. Collega Innsbruck, in Tirolo, a Bluedens, in Foralberg, lungo la direttrice internazionale Austria-Svizzera e sud-ovest della Germania. La linea oggi è interessata da un discreto traffico merci internazionale fra i paesi dell'est e l'area francofona. Bluedens, 14.000 abitanti, 570 metri di altitudine. Posta ai piedi del Muters, raggiungibile in funivia, da dove a 1.402 metri si gode un bel panorama su tutta la valle dell'Illa. Bluedens è gemellata con l'italiana Borgo Valsugana. Bluedens, 14.000 abitanti, 570 metri di altitudine. Bluedens è l'impianto di riferimento per la regione del Foralberg. Si formano qui i treni merci diffusi, i raccoglitori di un tempo. Il servizio al carro qui funziona ancora e ancora produce occupazione e, come nei bei tempi, si manovra ancora a spinta. Bluedens è anche capolinea della ferrovia Monta Fonerban, conosciuta per i simpatici e colorati treni gialli. Ma di quest'ultima parleremo più avanti. La ferrovia Monta Fonerban Grazie a tutti. La costruzione della ferrovia iniziò nel 1880, fortemente voluta dagli industriali tessili di Feldkirch, che avevano necessità di un collegamento veloce con i porti dell'Adriatico. Il primo tratto, fino a Landec, fu inaugurato il 1 luglio 1883. 14 mesi più tardi fu aperta all'esercizio l'intera linea. Dei 108 chilometri che separano Innsbruck da Bludenz, 77 sono in territorio tirolese e 31 in Foralberg. Provenendo dal Tirolo, la linea supera un dislivello di 729 metri. Il progetto di elettrificazione della linea dell'Alberg, ratificato con la legge del 23 luglio 1920, fu intrapreso precocemente da lungimiranti ingegneri, incoraggiati dalle positive esperienze di altre linee, anche in considerazione del fatto che l'energia elettrica era disponibile in loco in quantità sufficiente. L'elettrificazione a 15 kV, 16,7 Hz, fu concordata in Austria insieme alle ferrovie svizzere e tedesche. La progettazione tecnica fu affidata ad AEG e ad Austrian Siemens Schuchert. Il 14 maggio 1925 l'intero percorso era elettrificato. Fin da subito la nuova via est-ovest al di là delle Alpi vide la circolazione di importanti convogli, come l'Oriente Express Londra-Buccarest e l'Alberg Express Parigi-Vienna, influenzati solo dai periodi bellici e dai movimenti politici dei Balcani del XX secolo. Da Blu-Dance la linea dell'Alberg diventa binario unico. Pochi chilometri più a est, prende a salire in rampa 31 per mille. Variazioni di pendenza si incontrano nelle stazioni quasi tutte abilitate agli incroci. Il raggio minimo di curvatura fra Innsbruck e Landeck è di 300 metri, che scendono a 250 metri fino a Blu-Dance. Molti convogli circolano con la spinta in coda, con locomotiva presenziata. Nel 2009 circolavano ancora tutte le Taurus i Libre europei di calcio 2008. Particolarità di alcuni IC interni, il trasporto auto al seguito diurno, molto utilizzato a un costo conveniente. diurre. Particolarità di alcuni ICI, il trasporto auto al seguito di calcio, Grazie a tutti. 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 Transitano alcuni treni strani. Questo è l'IC 119 Munster Innsbruck. Dopo aver zigzagato per la Germania in TE e in TD, arriva all'Indau e riparte per l'Alberg, alimentando tutte le fantasie dei modellisti movimentisti. Nel senso pari c'è il 118, che però origina da Salisburgo alle 6 e 53 per arrivare a Munster alle 20 e 29. di tutte le C'è anche un ICDB che fa i 660-661 Vienna-Bregenz-Vienna, praticamente un IC interno con materiale DB. Sarebbe come un Milano-Roma con il TGV. La location è la stessa di prima, questa volta vista dall'alto. Sono le 3.06 del mattino del 16 giugno 2010. La Taurus 1116-173 scende dall'alberg con il 46.676, 548 metri, 777 tonnellate da frenare. Il treno carico di Dacia Renault, proveniente da Curtici, in Romania, è diretto in Francia, a Valanton. A 70 km orari, la velocità di linea e del peso frenato, il macchinista sente una forte perdita di pressione. Pensando a uno spezzamento del treno, azione il tasto di emergenza, che disinserisce la locomotiva e dovrebbe arrestare il treno. Invece la corsa continua e in poco tempo la velocità arriva a 125 km orari ed è il disastro. Le cause Lungo la linea sono state scaricate delle rotaie al centro del binario. Un tubo della condotta pneumatica di una bisarca urta una rotaia, si spezza e si piega, impedendo alla condotta di scaricarsi e quindi di frenare i carri. Una parte di treno è frenato, una parte no. La locomotiva ha i freni serrati, il convoglio a una fisarmonica, inevitabile il deraglio. Da plastico l'impianto di Dallas non manca proprio nulla. Da Bludenz a qui, in poco più di 10 km, siamo già saliti di 374 metri. Da Bludenz a qui, in poco più di 10 km, siamo già saliti di 374 metri. Da Bludenz a qui, in poco più di 10 km, siamo già saliti di 374 metri. Qualche chilometro più su, la stazione di Val d'Amalberg, a 1075 metri. Come gli edifici della linea del Semmering, i fabbricati dell'Amalberg sono stati costruiti con le pietre della valle. Giocando con il tele, è evidente il 31x1000 che caratterizza la tratta del Foralberg. La tratta precedente, a Langenham-Amalberg, è stata oggetto di una nuova variante che ha radicalmente cambiato l'aspetto della linea. Un tunnel di 2415 metri ha cancellato uno dei tratti più arditi del versante Foralberg, oggi trasformato in pista ciclabile. Nell'ambito degli stessi lavori di potenziamento, anche l'impianto di Langenham-Amalberg, 1217 metri, al portale ovest della Galleria di Valico, è stato ristrutturato secondo i parametri attuali, anche se poco confacenti con l'ambiente alpino. La galleria di base, lunga in origine 10.248 metri, è stata in seguito allungata con un manufatto in calcestruzzo di 400 metri di lunghezza, parte integrante della nuova stazione di St. Antonham-Amalberg. Il 20 giugno 1880 vennero aperti i cantieri sul versante tirolese e quattro giorni più tardi sul Foralberg. L'imprenditore friulano Cecconi inventò nuova stazione di St. Antonham-Amalberg.